questo è il terzo anno quattro anni da un anno e mezzo un anno tre anni in un barile del mio nonno ho visto il suo pat e da quel giorno ho detto voglio provare a fare questa cosa in realtà giocavo con i mestri e con le palline a ping pong in casa perché ho preso la passione dal mio babbo e che credevo che poi in futuro potremmo giocare insieme perché guardavo la tv il golf mi è piaciuto perché mi piace molto stare all'aperto poi la prima volta che l'ho vista alla televisione mi è piaciuto perché è uno sport molto appassionante secondo me che non devi mai giudicare i compagni divertirsi che quando uno tira l'altro deve stare in silenzio perché sennò uno può sbagliare il tiro ed è colpa di quell'altro il green è da dove usi il patte il patte è un'altra macchia che si usa solo dentro all'aria sì vorrei andare a fare le olimpiadi di golf e vado a fare atletico poi vado in formula 1 diventare professionista fare lo youtuber sì Grazie a tutti